Eccoci amici cari, buonasera, ci avviciniamo verso agosto, speriamo di passare almeno qualche giornata senza pensare alla gravità della situazione italiana, come ben sapete, ormai lo sapete tutti, il Presidente del Consiglio oggi ha comunicato una cosa che già sapevamo, quindi nulla di nuovo che intende richiedere nuovamente la proroga dello stato emergenziale e l'ho fatto senza nessuna comunicazione scientifica, ha detto vogliamo stato emergenziale perché se ci dovessero essere altri focolai e altri problemi noi con lo stato emergenziale possiamo fare i decreti e quindi immediatamente intervenire, guardate dire che sia una proroga del genere anticostituzionale è veramente, come possiamo dire, è un piacere dire, fargli un piacere, non è questo il caso, ma non vogliamo entrare ormai in questa che è una polemica anche perché poi la Corte Costituzionale è una Corte il cui ex Presidente è il Presidente oggi della Repubblica che firma tutti questi decreti e quindi diciamo che c'è una novità particolarmente importante, guardate anche se non ci cambia la vita però c'è una novità molto importante, questo decreto di nuovo stato emergenziale poteva essere come già stato fatto in passato, poteva essere fatto con un decreto come è stato fatto fino a oggi, ma badate bene questa volta, questa volta il Presidente del Consiglio non ha fatto un decreto ma è passato dalle Camere perché è così perché così non c'è più una responsabilità del singolo, del Presidente del Consiglio dei Ministri che come sapete è stato pluriquerelato e probabilmente è aperto qualche procedimento penale in corso, ma in questo modo è una responsabilità del Parlamento. Noi speriamo che qualche parlamentare diventi saggio in queste ultime ore e speriamo che non solo qualche parlamentare della maggioranza non voti o esca, siamo illusi, ma speriamo che le opposizioni facciano veramente le barricate nei confronti di una norma palesemente anticostituzionale, palesemente anticostituzionale. Su questo allora io vi devo dire che in tanto lavoro assiduo che stiamo facendo in tantissimi ormai, ricordateci quattro mesi fa eravamo in tre, poi siamo arrivati in 300 mila, poi un milione, poi sono arrivati altri avvocati, cioè ormai le persone che stanno tentando di ripristinare lo stato del diritto, stiamo a essere tanti, stiamo lavorando, come sapete l'Avvocato Dottor Romini ha fatto la sua correla che sta andando avanti. Ieri, come ben sapete tutti quanti, anche la grande voce italiana, Boccelli, che fino ad oggi era chiamato in causa per sapere se era un tenore o un mezzo soprano, sapete la sua voce è una voce a cavallo, invece dato che ieri finalmente ha espresso la sua opinione dicendo basta con lo stato d'emergenza, lo stato d'emergenza è una cosa illegittima che ci sta preparando la libertà, non si parla da oggi più di Boccelli come una grande voce italiana ma come un negazionista da cancellare. Guardate com'è facile, com'è facile questa Italia strana in cui i giornali, i media sono in mano sempre a una stessa cupola, passare da essere un eroe italiano, essere una persona da cancellare solo perché si dà un parere avverso a quello del sistema. In tutto questo noi abbiamo avuto un ruolo, abbiamo avuto il ruolo di far sì che il Presidente del Consiglio che fino a ieri emanava nei decreti legge, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per i fatti suoi, questa volta ha preteso che fossero le Camere ad assumersi delle responsabilità. Nel frattempo noi abbiamo fatto tante cose, abbiamo tutelato un sacco di vostri diritti dappertutto, in tutta Italia mi fa, diciamo noi di che cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo dei nostri sentimenti, del vostro affetto, delle vostre preghiere, perché sapete quanto sia difficile lavorare in questo contesto? Tu dici una cosa diversa dal sistema, immediatamente sei bollato, perseguitato, bannato e altro, come sapete, vi ricordate quante volte ci hanno oscurato, quante volte hanno pagato dei troll, per dire male di noi, ma noi continuiamo perché siamo la voce costituzionale del popolo libero italiano, del popolo che vuole che la Costituzione sia il centro della vita sociale. E in questo vi voglio leggere anche le cose belle che riusciamo a fare, quanto possiamo interagire, ricordate il caso, e questo è un nostro onore, anche uno solo di questi casi, uno solo di questi casi rappresenta la gioia di poter contribuire alla libertà di ognuno di noi. Abbiamo ricevuto questo messaggio ieri graziosissimo da delle persone fantastiche di Palermo, lo leggiamo insieme questo messaggio di Patrizia, ricordate, salve Avvocato, un affettuoso saluto da Aurora e Patrizia con furore da Palermo e la bambina di Palermo libera e felice, grazie a lei Avvocato Edoardo, dopo 11 tamponi. Ricorda, e sì ci ricordiamo, questa bambina che era segregata a Palermo, 11 tamponi, 60 giorni da inchiusa dentro una casa e le istituzioni che continuavano a perseguitarla per fortuna, per fortuna, Patrizia la mamma si è rivolta a noi, per fortuna siamo riusciti ad agire e a liberare questa bambina. Ecco, bambina, questa è una grande gioia, è una felicità per noi, essere riusciti a liberare una sola bambina, un solo individuo, è una grande gioia e in alcuni casi riusciamo nel nostro compito e guardate, non c'è cosa più bella che vedere questo sorriso, abbiamo ovviamente minorenne quindi il suo viso è truccato, questo è il sorriso di una mamma e una figlia. Siamo onorati di essere amici di Aurora e Patrizia. Allora, dobbiamo parlare di qualche cosa, è uno stato veramente folle, il presidente della regione Lombardia è indagato, però vi voglio dire, mi rivolgo soprattutto a chi si ricorda tutti i miei filmati, i nostri incontri, a Fiorella, a Latosini, a tante altre amiche che ci seguono e che si ricordano questi nostri video. Due mesi fa, un mese e mezzo fa, diciamo in maniera abbastanza, come posso dire, sorridente, avevo detto due mesi fa, caro Fontana, presidente della regione Lombardia, stai attento, ho sognato, ti ho sognato e ti ho sognato che correvi in un deserto, dietro di te c'era un branco di lupi che ti inseguivano, davanti a te c'era una villa bianca e c'era il mare, il deserto. Diciamo che ricordava questo sogno a Mamette, quindi fatti già avvenuti e volevo dire a Fontana due mesi fa, Fontana stai attento, ti inseguiranno e farai purtroppo la fine di Craxi. Ebbene, vedete, nonostante quello che sia accaduto alla magistratura, uno sconquasso totale, hanno pubblicato tutte le prove delle persecuzioni nei confronti di Berlusconi, sentenze finte, cioè veramente il depauperamento di qualsiasi, come possiamo dire, pietra miliare della nostra giustizia, è stato un crollo totale di un'etica, anche di un soggetto che rappresentava per il popolo italiano un emblema, la giustizia, noi pensavamo fosse cambiato qualche cosa, finalmente la magistratura avrà preso consapevolezza dei drammi che sono stati effettuati, niente, peggio. Allora, il presidente della regione ha fatto un po' di, come posso dire, è stato troppo bravo, troppo buono, troppo, allora che è successo? Aveva ordinato dei camici, delle mascherine, alla fine la ditta prescelta era quella del cognato, quando l'ha saputo che ha fatto, ha obbligato il cognato a regalarli alla regione Lombardia. Quindi sono stati regalati 500 mila euro di camici regalati da una ditta alla regione Lombardia. La Lombardia ha pagato zero, zero. Lui che ha fatto? Di tasca sua ha dato al cognato 200 mila euro per rimborsarlo di questo. Fatti loro, ma a noi che cosa ce ne frega dei soldi? È indagato. Scusate, nel Lazio, il presidente della regione Lazio ha pagato 11 milioni di euro dei soldi dei cittadini, sono usciti dalla regione Lazio, 11 milioni di euro per delle mascherine a una ditta di lampadine che non esisteva, stava in una campagna, pagati zero mascherine, 11 milioni di euro. Non è indagato. Il magistrato di Milano indagano Fontana, presidente della regione Lombardia, perché Fontana ha pagato il cognato e la regione ha acquisito camici e mascherine a zero euro. Ma secondo voi è una cosa normale? O travalichiamo anche la decenza? Non lo so, ditemelo voi. Però vi voglio far capire di quanto la classe politica, fino ad oggi, la nostra classe politica, ha fatto degli errori veramente stolti dal punto di vista legislativo, perché ha inseguito quello che qualcuno, non diciamo chi, inseriva loro nelle orecchie, perché delle cose sconclusionate. Allora, di che cosa è indagato Fontana? Perché noi siamo dei giuristi, perché dovete capire come avvengono queste cose. Di che cosa è indagato? Sentite che il reato. Chi ha scritto questo reato? Poteva essere solo o un malato di mente, lo leggiamo insieme, oppure uno con un suggeritore qui dentro che voleva distruggere qualsiasi classe politica, dal consigliere municipale a quello comunale. Perché? Sentite che tipo di reato. Anzi, lo leggiamo insieme, guardate. Articolo 350 del codice penale. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Ecco, già una cosa del genere vi deve far pensare, perché è un reato che bisogna avere due e tre lauree per riuscire a capire il titolo. Il titolo? Turbata libertà del procedimento del procedimento di scelta del contraente. Questo è un nuovo articolo, perché vede 500, 350 e bisse, quindi vuol dire che bisse è stato aggiunto al 350. Allora, chiunque con violenza o minaccia o condoni, promesse, collusioni. Guardate questo termine. Collusioni. Adesso andiamo a vedere che signi collusioni. O altri mezzi, fraudolenti, turba del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando. O di altro atto equipollente, quindi non solo il bando, ma qualsiasi equipollente, qualsiasi scritto della pubblica amministrazione, al fine di condizionare modalità e di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da sei mesi. Che significa? Che significa collusione? En ciclo media treccani. Tra le altre cose collusione significa intesa contingente, ma guardate la follia di questo articolo, intesa contingente sul piano tattico di partiti politici, di forze economiche e di organizzazioni sociali che pur sono opposte sul piano programmatico. ecco. Ma secondo voi questo è un delitto scritto da uno normale o da uno che aveva dei fini fortemente politici, nel senso che chiunque fa un atto amministrativo può fare questo reato così lo eliminiamo dalla faccia della terra? Non lo so, ditemelo voi. ecco. Allora, mentre, mentre, ecco, questa fotografia che vi faccio vedere ci getta nello sconforto, può sembrare ridicola, ma è offensiva degli italiani, ma ormai ci stanno offendendo talmente tanto, talmente tutti, che una cosa in più, ecco gli ultimi sbarcati ieri, eccoli qua, gli ultimi sbarcati ieri, aspettate, non solo sbarcati, no, no, aspettate, eh, ma soccorsi dalle forze navali italiane, italiane perché in grave stato di pericolo, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, vedete? Guardate, no, guardate l'eleganza, guardate l'eleganza, eccoli qua, e non è di Berlusconi ma c'è anche Dudu, dove sta? Ecco Dudu, Dudu, eccola, c'è anche Dudu, il barboncino, sono sbarcati dalla Tunisia, eccoli, col barboncino con il collarino dorato, ecco, non è Dudu di Berlusconi, è un cane tunisino, ve lo diciamo subito, ecco, mentre succede questo, mentre succede questo, mentre sbarcano con i cagnolini a seguito, i barboncini Nani Toys che costano 1200 euro a cagnetto, ecco qui che succede in Italia, guardate, questo è un mitra, eh, questo è un mitra, guardatelo, questo è un mitra, mitragliatore, ecco qui i bagnanti sdraiati, ed ecco qui, ed ecco qui i soldati italiani con mitragliatore che vanno a controllare le distanze dei bagnanti, ecco, amici miei, questa è la nostra Italia, purtroppo viviamo in questo momento, e voglio ricordare, per concludere, perché dobbiamo sempre pensare a quello che è accaduto alla storia, ci deve insegnare, vedete, a chi è oggi al potere la storia non insegna niente, sono talmente concentrati su un disfacimento sociale, che è la storia insegnante, noi siamo il popolo, quelli che campiamo oggi e camperemo anche fra 20-30 anni, io personalmente camperò altri 30 anni, voi probabilmente altri 50 che siete più giovani, io ho 63 anni, altri 30, 93, quindi ancora potrò fare, potrò dare filo da torcere a chi non rispetta i cittadini italiani, allora, che cosa succede in Italia? Ecco cosa succede, ma noi questo lo dobbiamo imparare, perché domani, quando finalmente avremo un ministro a cui parlare, un ministro nuovo a cui parlare di giustizia, diremo, guardi signor ministro nuovo per bene, che vuole veramente la giustizia, guardi che in Italia si fanno degli ordini terrificanti e nessuno paga, ma chi è che paga? Chi è che paga per questo? Ecco qua, fu abbattuto dai giudici, Vignali, l'ex sindaco di Parma, eccolo qua, assolto, dopo 11 anni, ha disarcionato nel 2011, dopo 10 anni è stato completamente assolto, è stato completamente assolto, eccolo qui, e quei giudici hanno fatto carriera? Sì, hanno fatto carriera, e perché non pagano per questi gravissimi errori che stranamente, stranamente sono errori politici, stranamente sempre nessuna parte, stranamente? Allora, perché non devono pagare? Se un avvocato sbaglia, paga, viene irradiato dall'ordine e paga i danni, se un medico sbaglia, viene irradiato dall'ordine e paga i danni, se un giudice sbaglia, viene promosso. Forse c'è qualche cosa che non va in questa diversità, una diversità che la Costituzione non prevede, perché la Costituzione italiana afferma che tutti i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge. Noi vogliamo che la Costituzione italiana valga per tutti. Vi abbraccio, ci vediamo domani sera, ora dice il nome come al solito. Un abbraccio caro a tutti, ciao!